Centro Accoglienza Pian del Lago, i sindacati tornano a chiedere un incontro, così CISLFP, Flaica Coba, Wiltemp e SNALV vogliono parlare con i vertici della cooperativa S-Quadro e della prefettura per i problemi dei lavoratori del centro accoglienza. I punti richiesti riguardano l'aumento di una unità di personale in turno, i lavoratori che chiederebbero di passare da una persona a due per ciascuno dei tre turni di lavoro. Chiederebbero anche la disponibilità di corrette misure dei dispositivi di protezione individuali, dai guanti alle mascherine, alle tute, alle divise e quant'altro previsto dalle norme vigenti per ogni operatore in servizio. Circa i FIS attendono risposte dalla nota che inviarono il 22 dicembre scorso riguardo i fondi integrativi salariali arretrati di ottobre, novembre e dicembre 2021 ed infine chiedono che le buste paga arrivino contemporaneamente al mese del salario anziché dopo due o tre mesi. Queste le richieste avanzate dalle parti sociali che chiedono un incontro per dare risposte e si dicono pronte a intraprendere sit-in e presidi.